cazzo fa che roba gigantesca cazzo che spettacolo di ostrega di un coso figaro cazzo se è grosso allora fino a chi che sa arrivare guardiamo il guado se c'è se c'è qualcosa giragli intorno qua di qua è più pulito vedi è stretto ancora minchia siamo le vasche seve siamo le vasche qua guarda su lì ci sono le vasche guarda su o è la cava no è le cave siamo già più avanti ma qua serve a fondo a 10 metri l'acqua figaro se te borla dentro te negati no è la cava qua vedi che c'è già il no non penso non penso qua vedi che lì c'è già il bordo del magazzino quindi dobbiamo